Pavese, Levi e poi io ultimamente sto approfondendo molto la letteratura americana, poesia americana ma già lo conoscevo che è Gisberg, chiaramente dà quel senso estetico della perfezione che secondo me lui attraverso il caos raggiunge quel cosmo, quella bellezza di cui parlavamo prima Gisberg probabilmente lo fa, non so come ma probabilmente perché è il suo diario di vita e di morte